Spalle più larghe per il bramante basket Pesaro che trova in Riviera Banca un alleato prezioso per sostenere l'impegno nel campionato di Serie B e le attività del suo florido settore giovanile. L'istituto bancario, già sponsor in Serie A2 del Rimini Basket, si lega ora anche al sudalizio pesarese col sostegno alle sue attività sportive e un percorso comune di attività sociali nel territorio. Da subito rimaniamo sorpresi da questo bellissimo progetto dedicato principalmente ai giovani, un settore giovanile davvero con delle ambizioni importanti fino alla prima squadra. Cosa abbiamo toccato con Manu? Una rete di imprenditori sani del territorio che rappresentano e comunicano con dei valori simili al nostro istituto. Da qui abbiamo cominciato un dialogo per impostare le basi e le colonne principali di questa partnership fino ad arrivare al mondo dei giovani, soprattutto al mondo delle scuole. Non possiamo far finta di niente, il loro brand nasce proprio da una scuola importantissima di Pesaro e da lì vorremmo cominciare a pensare a questo progetto. Un progetto davvero non solo sull'ottica sportiva e di risultato ma di valore e valore con i giovani. Avere una partnership come questa con Rivera Banca è sicuramente un elemento di prestigio che rafforza il nostro progetto e che gli dà sostegno. Dal punto di vista degli obiettivi sportivi siamo una società che ci pone l'obiettivo di mantenere la categoria. L'anno scorso abbiamo fatto una stagione eccellente arrivando terzi. Perchè no? Ripensare di potersi riconfermare. Va da sé che non è semplice perché il livello del campionato è ulteriormente salito e ci sono tante squadre molto competitive. L'inizio del campionato che abbiamo già giocato le prime quattro partite ci ha visto prevalere nei due partiti in casa e soccombere in quelle in trasferta. Però, ripeto, l'equilibrio è altissimo per cui ogni partita fa storia a sé. Siamo una squadra, una società che ha anche due gruppi di settore giovanile, un'Anda 17 e un'Anda 19. Anche su questi due gruppi abbiamo degli obiettivi di raggiungere una crescita dal punto di vista della formazione dei ragazzi e di toglierci anche qualche soddisfazione in termini di risultati.